Ciao, io sono Roberto Marchesini di wpvincente.it e nel video di oggi ti voglio far vedere come puoi andare ad inserire sul tuo sito WordPress gli eventi che sono presenti su Facebook. Questa videoguida ti sarà di aiuto sia che tu voglia inserire un evento creato da te oppure un evento che è stato creato da qualcun altro. Non fa alcuna differenza. Passiamo subito alla parte pratica che vediamo come fare. Allora, attualmente mi trovo sulla pagina ufficiale di Vicenza Eventi. Ora, mettiamo caso che io voglio andare a pubblicare questa tab di eventi sul mio sito WordPress. Quindi vorrei andare ad integrare gli eventi qui sulla sidebar del mio sito web. Ora, quello che devi fare è andare su Google e andare a digitare incorporazione Facebook. Come primo risultato ti dovrebbe apparire questo link qui. Andiamo a cliccarci sopra. E ora, la prima cosa che devi fare qui è andare ad inserire l'URL della pagina che ospita l'evento. Quindi andiamo qui su Vicenza Eventi, andiamo a copiarci questo URL qui e me lo vado ad incollare dove mi viene richiesto. Ecco che come vedi l'anteprima si è aggiornata. Ora qui come vedi hai diverse opzioni, quindi puoi usare un titolo piccolo se lo desideri, nascondere l'immagine da copertina, eccetera, eccetera. Per me va benissimo così. Ora, come vedi all'interno di quest'anteprima vengono visualizzati i post che sono stati pubblicati da questa pagina. Noi naturalmente vogliamo che vengano visualizzati gli eventi pubblicati da questa pagina. Dunque gli eventi che sono presenti su questa tab. Ora per fare questa cosa devi andare sempre su questa pagina e qui dove c'è scritto tab devi andare ad inserire la voce Events. Quindi qui andiamo a scrivere Events e come vedi ecco che ora all'interno del widget vengono visualizzati gli eventi che sono stati pubblicati. Ora per andare ad inserire questo widget all'interno del tuo sito WordPress, io nel mio caso me lo andrò ad inserire qui sulla barra laterale, devi tornare su questa pagina e andare a cliccare su Ottieni il codice. Ora devi andare a copiarti tutto questo codice qui, quindi lo selezioni, fai copia, vai sul tuo sito web, sul tuo pannello di amministrazione, dalla colonna di sinistra vai su Aspetto, Widget, vai a selezionare la sidebar del tuo sito web, nel mio caso è questa qui, e da qui vai a trovarmi un widget che si chiama HTML personalizzato. Eccolo qui. Lo vai a selezionare tenendo premuto il tasto sinistro con il mouse e te lo vai a portare all'interno della tua sidebar. Ok, una volta che l'hai aggiunto, mi vai ad inserire all'interno di questa casella il codice che ti sei appena copiato. Una volta che hai incollato il codice, vai a premere invio la tastiera per andare a creare una nuova riga. Ok, ora torniamo sempre su questa pagina, andiamo a selezionare anche tutto questo codice, lo andiamo sempre a copiare, e ce lo andiamo ad incollare qui sotto. Ottimo, ho fatto questa operazione e non ti resta altro che andare a salvare il widget. Quindi clicchiamo su salva, e ora se andiamo sul mio blog, e vado a ricaricare la pagina, ed ecco qui che come vedi il widget di Facebook è stato inserito correttamente all'interno del mio sito web. Ora naturalmente i tuoi utenti potranno visualizzare tutti gli eventi, cliccare sull'evento che interessa loro, e verranno reindirizzati sulla pagina di Facebook. Bene, siamo arrivati alla fine di questo video. E se sei interessato alla piattaforma Wordpress, cosa mi dici di scaricare il mio manuale completo a Wordpress, che ti guida con la creazione e gestione del tuo sito web con tanto di immagini? Puoi scaricare questo manuale andando all'indirizzo wpvincente.it slash manuale. Penso proprio che ci sarà di grande aiuto. Con questo io ti saluto, e mi raccomando di iscriverti al mio canale di YouTube per non perderti i prossimi video. Grazie a tutti.